Il 12 gennaio quello che è andato distrutto ad Haiti non è solamente la capitale, l'unica grande città di tutto il paese, ma sono andati distrutti anche tutti i simboli di questo popolo e di questo paese, civili, religiosi, tutto ciò che rappresentava il loro essere un paese. E' andata distrutta la cattedrale di Porto Prens, il palazzo del presidente, tutti i ministeri, tutto ciò che rappresentava qualche cosa che questo popolo aveva costruito nei suoi 200 anni di indipendenza di cui va giustamente molto molto orgoglioso. Le persone che noi abbiamo trovato il 13 gennaio, la mattina presto, erano delle persone completamente senza punti di riferimento, così come anche noi ci siamo sentiti in quei primi momenti come se avessimo perso tutti i nostri punti di riferimento. Quello che a me ha stupito, la prima delle tante cose che mi hanno stupito, la mattina del 13 gennaio, quando alle prime luci dell'alba abbiamo preso la macchina per andare nei quartieri dove lavoravamo, è stato trovare davanti al nostro ufficio i nostri collaboratori e la gente con cui avevamo lavorato in tutti i mesi precedenti. E la prima cosa che questa gente mi ha detto è stata, noi lo sapevamo che voi sareste venuti. Noi crediamo che il futuro di Haiti sia cominciato quel 13 gennaio, in cui le persone che ancora c'erano hanno capito che qualcosa dopo ci sarebbe stato ancora. Certo capire questo e poi pensare a un paese da ricostruire sono due cose in mezzo alle quali ci va messo molto contenuto. Nei nostri campi, nei campi dove l'Av si lavora in questi mesi, non ci sono bambini cosiddetti separati o non accompagnati, cioè bambini soli. Ogni bambino ha trovato una famiglia a conquistare. Certo forse non è stato un gesto proprio totalmente spontaneo il prendersi in carico un figlio in più in una situazione del genere. Diciamo che un po' magari va suggerito ogni tanto. Però questo è successo. Chiedevo ai miei assistenti sociali haitiani, com'è possibile che sono sei anni che lavoriamo a Sitesolei e abbiamo il problema dei bambini abbandonati, adesso c'è una catastrofe e i bambini abbandonati non ci sono più. Volevo un po' dirgli, cioè non è che avete lavorato benissimo fino adesso. E invece i miei assistenti sociali mi hanno detto, sai madama, il giorno dopo il terremoto, quando abbiamo saputo che l'Av si lavorava, noi siamo venuti tutti a casa tua. Infatti è vero, il 13 gennaio questi si sono presentati tutti direttamente al mio indirizzo. E mi hanno detto, la cosa che ci ha stupito è stato vedere che a casa tua dormivano tutti i volontari internazionali dell'Av si. Anche questo è vero, anche se mio marito non era tanto contento, però vabbè, se l'è presa lo stesso. E hanno detto, noi vi abbiamo visto vivere insieme per tre mesi come se fosse una sola famiglia. E allora ci siamo letti che potevamo farlo anche noi. Ecco, io credo che la risposta all'urgenza, a queste enorme catastrofe dell'Av si sia cominciata così. Si è cominciata sentendoci una famiglia. Si è cominciata cercando delle soluzioni semplici, quelle che erano praticabili e quelle che eravamo in grado di fare. Senza dimenticarci che quello che eravamo chiamati a fare era rispondere alle necessità del fratello che avevamo di fianco. E anche questa gente, in questa situazione terribile, non desidera con la ragione, ma quando desidera qualcosa di veramente grande, lo desidera con il cuore. Questo è una catastrofe, ma è anche un'opportunità per questo Paese. E noi vogliamo fare in modo che questa opportunità diventi una realtà.